Negli ultimi giorni il preoccupante isolamento dell'Italia in Europa è diventato più evidente a tutti e ha posto le premesse del suo perdurare. E questo per effetto sia delle scelte degli elettori italiani il 26 maggio, scelte sovrane, sulle quali questo Parlamento nulla ha da dire, sia delle politiche del Governo. Il raccolto mietuto dal Governo in Europa dopo un anno di politica economica estera ed europea caratterizzate da cacofonia, aggressività e impotenza è imbarazzante. Non mi riferisco tanto all'eventuale procedura di infrazione, ma ad una cartina di tornasole che abbiamo già visto qualche giorno fa. Tutti gli Stati membri dell'Eurozona, nessuno escluso, hanno condiviso l'analisi della Commissione su quel tema e hanno invitato l'Italia a prendere le misure necessarie.